Grazie a tutti. Abbiamo il timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercè di chi ci sta di fronte. Non ci esponiamo mai perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa cercare i nostri limiti, che ci fa comprendere, dando il senso e trasformandolo in forza, appunto, in energia. Io amo la semplicità, che si accompagna con l'umiltà, mi piacciono i barbotti. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarle in anima, quelli che hanno la carne, a contatto con la carne del mondo. Perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è il coramore. Grazie. Grazie. Grazie.